La notte scorsa un'automobile è andata fuori strada a Cavallino Treporti. La macchina è finita contro un'abitazione incendiandosi. Sono stati momenti di paura. Le fiamme hanno coinvolto il mezzo ma anche gli infissi dell'edificio. All'incrocio tra via Fausta e via Pisani sono giunti i vigili del fuoco che hanno domato il rocco. Fortunatamente i due occupanti del mezzo, seppur feriti, sono riusciti ad uscire in tempo dal veicolo e all'arrivo del 118 sono stati portati all'ospedale. Sul posto i carabinieri per i rilievi dell'incidente.